Io a nome del direttore e quindi del primo circolo di Isola del Liri vorrei salutare l'associazione Samantha nella persona della signora Bellini che ho avuto modo di conoscere in questi giorni, che hanno preceduto questa manifestazione e il passaggio della bandiera nei nostri paesi. La nostra è stata una partecipazione coreografica e da spettatori ma non per questo meno sentita e meno importante perché siamo vicini all'infanzia e chi più di noi sa quali sono i diritti di questa infanzia e qual è l'importanza che riveste per tutti noi. Noi continuiamo a lavorare in questo senso, ci prevediamo poi per ulteriori manifestazioni una partecipazione più attiva quindi con adesioni diverse. Questo ecco, grazie all'amministrazione pure comunale che ci ha aiutato e ha collaborato per la buona riuscita di questo passaggio della bandiera e grazie alle colleghe del primo circolo, quindi delle scuole dell'infanzia di Castelliri e della scuola elementare. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie